Il Pignettaro di Tor Pignattaro, operazione dei carabinari, 15 persone arrestate, smantellata una banda che spacciava nella zona del Pigneto. Ancora la droga al centro dei traffici della capitale. Cleto Romantini. Zio, Ciccio, Erparrucca, Dentone e Bombolo. Soprannomi che possono far sorridere i più, ma che invece celano nomi ben noti alle forze dell'ordine. Componenti di una vera e propria associazione criminale in grado di rifornire di stupefacenti il Pigneto, Meta di Movida giovanile notturna, e Tor Pignattara, indagati e arrestati nell'operazione Cnosso della DDA e dei Carabinieri di Roma Centro, che rivela una volta di più un contesto in cui la droga è al centro degli interessi della criminalità romana, oltre che alla base dei contrasti da cui sono scaturiti i recenti fatti di sangue. Nell'inchiesta ci sono anche nomi noti come quello di Giovanni Princi, condannato a quattro anni per spaccio nell'ambito delle indagini per l'omicidio del personal trainer Luca Sacchi. In questa foto sono ripresi insieme durante un pedinamento di controllo dei carabinieri nel 2019, proprio pochi giorni prima del delitto davanti al pub di Colli Albani. Lì fu scoperto il giro di droga, adesso collegato. 15 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, 12 in carcere e 3 ai domiciliari. L'associazione radicata nel quartiere di Tor Pignattara ed influente anche nel quartiere del Pigneto, era in grado di offrire la vendita di tutti i tipi di stupefacenti, anche di diversa qualità, identificata con nomi fantasiosi ed originali, ben noti agli acquirenti della movida universitaria della zona. Con il nome Bruno si indicava Lashish, con Maria, Meri, Verde o M, la marijuana, mentre con lei, Ina o Cristiano, la cocaina. La droga poteva essere ritirata con appuntamento o consegnata direttamente all'indirizzo scelto dal cliente.